Il primo museo di arte contemporanea del Molise riapre al pubblico fino al 29 agosto con la mostra dedicata al più longevo premio per l'arte italiana. Per la prima volta accanto alla sezione dedicata alle arti visive con opere di artisti scelti dai curatori Giacinto Di Pietrantonio, Francesco Garrutti, Lorenzo Madaro e Paola Ugolini, anche una sezione dedicata ad architettura e design. Due giurie, una per le arti visive composta da Laura Cherubini, Caterina Riva e Andrea Avigliani e una per architettura e design composta da Laura Cherubini, Domitilla Dardi, Paolo Di Matteis Larivera, Angelo Rui e Andrea Avigliani designerà i vincitori della 62esima edizione. Mercoledì scorso il Museo di Arte Contemporanea di Termoli ha riaperto al pubblico con la nuova mostra una delle manifestazioni più longeve nel panorama italiano che dal 1955 ha portato nel capoluogo molisano alcuni degli artisti più importanti del secondo novecento lasciando come testimonianza del loro passaggio le opere che oggi compongono la preziosa collezione del Macte che per la prima volta nella sua storia ha organizzato il premio Termoli.